Oggi è tardi, maledizione, è tardi! Ce la faremo? È il ritorno delle sciarpine quelle fatte con le magliette, meglio tardi che male. Mi sa che è tempo di una pelata, una pelata in fast. Cosa noiosa! Oggi è a rischio perché è sempre bello, ma stasera danno tipo temporalissimi allarme giallo, quindi non so bene cosa fare. Questi stupidi OneBlade durano due giorni, maledizione. Non durano veramente un cazzo. Le ricariche costano 10 milioni di euro. Devo passare la lametta e la schiuma da barba, ma veramente? Avevano ragione i nostri nonni? Buona. Però, non sottovalutando lo sbattimento che c'è dietro un pelato, questo era il messaggio di Oggi. È veramente un mestiere full time. Peccato che non mi pagano. Sta uscendo nei commenti del video quello giovanotti, Fidel, come al solito la polemica quella. Che schifo, questi qui, il pop e tutto. Ho anche una luce se volete, forse è meglio. E la gente veramente non capisce questa cosa che, cioè, se riempi uno stagio di persone che vengano a vedere il tuo concerto, qualcosa di giusto lo stai facendo. Qualcosa. Cioè, non è un concetto così difficile. Eppure, toglie alle persone la possibilità di lamentarsi di qualcosa, si lamenteranno della persona che gli ha tolto la possibilità di farlo. Perché ho detto, puoi dire che questi due sono delle merde se anche tu riempi gli stadi. E quindi ora, al posto di insultare loro, stanno insultando me. Porca vacca, oggi è tardissimo. Un consiglio pratico, se vi piacciono, lo so che sembra un canale di shopping questo canale YouTube, ma perché non ho ancora trovato la sua funzione a questo giro, di questo giro di... Infatti si vede anche dalle view, che è vlog un po' così a cazzo. Però se vi piacciono i Ray-Ban, quelli che si piegano, ma non volete ovviamente spendere quanto i Ray-Ban, la Cressi fa questa bellissima... Le lenti sono bellissime e hanno lo stesso look dei Ray-Ban, a un decimo del prezzo. Prego. Oh no, non l'ho shakerato. È l'unico modo che ho trovato di digerire i liquidi della tabaccheria, che per me sono troppo forti. Allora li mischio con roba più leggere. L'ho mischiato con un Wisconsin, molto più light, e così riesco a gradirlo. No, Bluetooth. Comunque Smarty, dopo milioni di anni, ancora non molla un cazzo. Sì, diciamo che... Ha visto! Ha visto tempi migliori. Ehi, vai che c'è in giro il mio amico. Che bello, vedete? Riesco a prenderlo. Ah, sono contro luce. È impossibile! Madonna, caldissimo, caldissimo. Fin troppo caldissimo. Va bene, vado al lavoro. Ci vediamo di là. Ma ve le ricordavate queste strade durante la quarantena, com'erano? No, non è più così. Anche quello che mi faceva vloggare ai tempi. C'è molto vento, se non si sentirà niente, può essere. Comunque è proprio vero che mi sono imborghesito. Va bene, ci vediamo. È arrivato il momento di salutarsi. Buona giornata. Che altro dia? Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.